Da 25 anni attivo a Lecco il centro arti terapie, una scuola di specializzazione che si dedica appunto in diversi ambiti a questa disciplina. Le arti terapie sono una disciplina e una pratica volta a facilitare la comunicazione e l'espressione delle persone. Gli ambiti di applicazione quindi sono soprattutto in quelle situazioni di disabilità o di infermità che colpiscono le persone. Il nostro centro quindi si occupa di formare, formare dei professionisti in queste pratiche, in queste metodiche. Questa formazione si articola in quattro scuole che sono la musicoterapia, l'arte terapia, la danza movimento terapia e la dramma terapia. Questa è una realtà unica in Italia che raccoglie queste quattro scuole in un progetto unico e consente la formazione di specialisti in questi ambiti. Possiamo anche dire che questo percorso di 25 anni ha visto il nostro centro particolarmente attivo sul fronte anche nazionale, su quello che è stato lo sviluppo delle arti terapie. E questo nostro ruolo ha anche fatto sì che il centro, le nostre scuole, siano in connessione con quelle che sono le associazioni professionali delle singole arti terapie e frequentare le scuole e diplomarsi alle nostre scuole consente poi l'accesso a queste associazioni professionali. A tal proposito è in programma un stage di selezione che si terrà presso le nostre sedi sabato 22 settembre 2018. Insomma sarà valutata la possibilità di accedere poi e confermare l'iscrizione nelle nostre scuole. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito, il sito del centro arti terapie Lecco www.artiterapie.it o contattare direttamente la segreteria al numero 0341 350496.